Cari amici di salute ben ritrovati bellissima giornata oggi noi siamo ritornati con molto piacere alla terrazza 22 che si affaccia sul golfo di Pozzuoli e ritroviamo con altrettanto piacere il nostro amico Andrea Tondini gastroenterologo dietologo che avevamo incontrato un po' di tempo fa lo stiamo incontrando spessissimo veramente per parlarci della sindrome del colon irritabile una delle puntate che ha avuto maggior successo come dissi quando abbiamo mandato in onda appunto quella puntata ancora oggi sul nostro canale youtube impazza il suo video perché effettivamente è una sindrome molto diffusa e quindi molti telespettatori ci hanno chiesto di fare chiarezza su una cosa che viene spesso abbinata ma credo che sia completamente diversa che è la disbiosi intestinale in realtà che cos'è? In realtà Serena non è una cosa completamente diversa in oltre i due terzi dei pazienti che hanno una sindrome dell'intestino irritabile spesso è presente una disbiosi intestinale ma per chiarire il concetto di disbiosi dobbiamo far riferimento a un altro concetto che è quello di microbiota intestinale che cos'è il microbiota è un vero e proprio organo un vero e proprio apparato indovato nel nostro intestino costituito da 100 mila miliardi di batteri virus miceti che hanno un rapporto diciamo di tipo simbiotico con il nostro corpo nel senso che praticamente non sono cattivi di per sé ma diciamo che c'è un equilibrio ci sono batteri saprofiti che praticamente approfittano del nutrimento ma ricambiano il piacere al corpo producendo fattori vitaminici producendo acidi grassi a catena corta che nutrono le cellule intestinali deconiugando gli acidi biliari però allo stesso tempo praticamente ricevono nutrimento dalle sostanze che trovano nell'intestino quindi c'è un rapporto come dire di tipo commensale mutualistico e c'è un equilibrio c'è un'omeostasi quando questa omeostasi si sposta verso i batteri che noi chiamiamo tecnicamente patobionti cioè quelli cattivi si crea una situazione che si chiama disbiosi intestinale ora questo microbiota però non è insomma una cosa come dire ho male alla punta del naso è una cosa difficile da diagnostica da indagare quindi come si può fare una diagnosi di disbiosi la diagnosi di disbiosi è una diagnosi abbastanza semplice e ripeto va sempre sospettata nel momento in cui tutte le iniziative terapeutiche per la sindrome dell'intestino irritabile compresa in modo particolare la dieta low fodmap di cui abbiamo parlato estesamente qualche tempo fa non funzioni allora in questo caso bisogna sospettare che c'è qualcosa che a livello intestinale di equilibrio intestinale non va ci sono alcuni test uno di questi test alle volte trascurato devo dire anche dai medici medicina generale è il test per la disbiosi che è un test semplicissimo che si fa sulle urine e che rivela la presenza di due sostanze fondamentali che sono l'indicano e lo scatolo che sono dei prodotti di fermentazione batterica di un aminoacido che è il triptofano perché è importante questo test perché a seconda della presenza dell'uno o dell'altra sostanza ci indica la localizzazione della disbiosi sì perché praticamente quando c'è un valore molto alto di indicano noi parliamo di disbiosi fermentativa cioè una disbiosi a carico del tenue del tratto prossimale dell'intestino quando invece più alto lo scatolo parliamo di una disbiosi putrefattiva che è a carico invece del collo chiaramente queste disbiosi sono legate a carenze di batteri tipo diverso e questa cosa ci consente di intervenire in modo mirato cioè di dare un'integrazione specifica a seconda appunto del tipo di carenza microbiotica che diciamo hai detto una parola magica che noi andiamo a integrare e mi si è accesa una luce praticamente ogni giorno colazione pranzo e cena la televisione ci propone pubblicità di integratori di non so complessi probiotici di yogurt arricchiti di non so che cos'altro ma una giungla che servono queste cose facciamo chiarezza a prescindere dal fatto che abbiamo detto prima la necessità di integrare in modo mirato facendo delle diagnosi diciamo più specifiche però comunque nell'ambito di questa giungla di fermenti lattici come possiamo genericamente definire in realtà abbiamo prebiotici probiotici simbiotici e addirittura più recentemente postbiotici che cosa sono i probiotici sono i germi veri e propri diciamo propri classici fermenti lattici quindi batteri vivi che in qualche modo vanno a integrare la flora batterina destinale laddove sia carente per ridare l'omeostasi l'equilibrio funzionale che viene a mancare prebiotici invece non sono batteri sono sostanze presenti a volte negli alimenti alle volte addizionati ai probiotici che servono come nutrimento per i batteri i simbiotici sono un mix sono praticamente prebiotici più probiotici quindi hanno un'azione più diciamo a 360 gradi recentissimamente si stanno sperimentando dei prodotti della fermentazione batterica che si chiamano postbiotici che sono stati proposti come terapia antinfiammatoria in molte situazioni di molti apparati organi del nostro corpo addirittura nella cosmetica e nello sport che forse sono veramente la nuova frontiera di questo tipo di terapia integrativa. Ci sarebbe molto altro da dire sicuramente non escludo che ritorneremo sull'argomento o su altri argomenti con il nostro ospite intanto se vorrete rivedere questa trasmissione vi invito a collegarvi al nostro canale youtube o al nostro sito internet vg channel.com e per oggi è tutto arrivederci alla prossima